Due donne, un'unica passione, Tum 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 Tum, Franky Morello. Alla fine ci sono state appunto delle divergenze. Scusa un secondo, devo incibriarmi in là. Va bene, allora... Allora... Allora, Nadia... E' il boy! E' il boy! E' il boy! E allora mi hai detto che ti devo fare qualcosa, che cosa ti devo fare? Sì, mi devi arrivare alla terminata perché non ti avevo tutto sapere... A che ora c'è il boy! A che ora c'è il boy! E' il boy! Ciao! Allora... Come procede? Tutto bene? No, tranquillo, l'importante è che mi metti tutto da parte Posso prendere tutto stasera Con tanti, naturalmente Sì, sì Ma non voglio No, non vado a spendere, tranquillo Voglio essere tranquillo No, no Chi è che lo vuole? Chi lo vuole? Quanto vuoi per 2500 Ti do 4000 Perfetto Sì, sì Tu sto a posto, vado per 4000 A stasera Ciao caro, ciao, ciao Allora, che mi chiedi di rimancare? Che ho deciso di rimancare? Però in timorello, ovviamente Che è Ehm, va bene, 5 Ehm, vabbè Luca Luca Ma che ti ha regalato a comprare Luca? Eh, mi ha regalato Raga, raga, tagliate, tagliate, tagliate Vai, vai, dillo, dillo, dillo No, è in bagna, dillo, dillo Dillo Ah Un film di Johnny Cornetto Il valore delle cose Tra breve nei migliori film